Giancarlo Giannini è uno degli attori più celebri e versatili del cinema italiano, la cui carriera si estende su più di cinque decenni e attraversa numerosi generi cinematografici. Nato alla Spezia il 1 agosto 1942, Giannini ha iniziato la sua carriera artistica nel mondo del teatro, prima di conquistare il grande schermo grazie al suo talento poliedrico e alla sua straordinaria capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di ruolo. Inizio della carriera e il debutto cinematografico, Giancarlo Giannini si forma alla Scuola di Teatro di Roma, dove affina la sua passione per la recitazione e acquisisce le tecniche necessarie per diventare uno degli attori più completi della sua generazione. Il suo debutto cinematografico avviene nel 1965 con il film La Signora della Notte, ma è negli anni successivi che la sua carriera prende slancio. Negli anni 70 Giannini diventa uno degli attori più ricercati grazie alla sua capacità di interpretare ruoli drammatici e comici con la stessa maestria. Il successo con Lina Wertmuller. Il vero trampolino di lancio per Giannini arriva negli anni 70 con la sua collaborazione con la regista Lina Wertmuller. In particolare il suo ruolo nel film Mimi metallurgico ferito nell'onore 1972 lo catapulta sulla scena internazionale. La sua interpretazione di un operaio siciliano che diventa coinvolto in un inizio di una serie di ruoli iconici nel cinema italiano. Questo successo è seguito da altri progetti con Wertmuller come film d'amore ed anarchia 1973 e Pasqualino Sette bellezze 1975 che lo consacrano come uno degli attori più apprezzati del panorama cinematografico mondiale. Pasqualino Sette bellezze in particolare gli vale una candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista, un riconoscimento che gli permette di guadagnarsi una fama internazionale. In questo film Giannini interpreta un uomo che lotta per la propria dignità in un contesto di guerra, un ruolo che gli consente di mostrare una gamma emotiva straordinaria. L'incidente di Livia Giampalmo. Una lotta per la vita e il recupero tra amore e solidarietà. L'8 novembre 2024 una tragica notizia ha scosso il mondo dello spettacolo e degli amanti delle montagne. Livia Giampalmo, una delle attrici più apprezzate della scena italiana, è rimasta vittima di un incidente durante una sua escursione in montagna. Alle ore 9, mentre scalava uno dei sentieri più impegnativi delle Dolomiti, Giampalmo è precipitata, riportando gravi ferite. La notizia ha suscitato preoccupazione e solidarietà con i colleghi e gli amici che si sono uniti per sostenerla in questa difficile prova. L'incidente. La tragedia in montagna Livia Giampalmo, un'attrice da sempre legata alla natura e alla montagna, aveva deciso di affrontare una delle vette più difficili delle Dolomiti, un'impresa che aveva già portato a termine in passato senza alcun problema. Il suo amore per le altezze e per l'avventura la spingeva a cercare sempre nuove sfide, ma quella mattina l'incidente è stato inevitabile. Durante una fase di arrampicata particolarmente complessa, ha perso l'equilibrio, precipitando per alcuni metri. L'impatto con il suolo è stato violento e subito si è reso necessario l'intervento di soccorso. Livia è stata prontamente raggiunta dalle squadre di soccorso alpino, che sono riuscite a stabilizzarla e trasportarla con urgenza in ospedale. La diagnosi iniziale ha confermato gravi fratture alle gambe, ma soprattutto danni agli organi interni e alla colonna vertebrale, che hanno creato molta preoccupazione riguardo al suo stato di salute e alla possibilità di un recupero completo. Giancarlo Giannini, la pronta reazione di un amico e collega. Nel mondo dello spettacolo, una delle reazioni più commosse all'incidente è arrivata da Giancarlo Giannini, storico amico e collega di Livia Giampalmo. Giannini, che stava partecipando alle riprese di un nuovo film, ha interrotto immediatamente il suo lavoro per correre al fianco dell'attrice. Conosciuto per la sua professionalità e il suo carisma sul set, Giannini ha dimostrato anche una grande umanità, mettendo da parte il suo impegno lavorativo per essere presente in un momento così difficile. Secondo quanto riportato dalle fonti vicine all'attore, Giannini è stato tra i primi a ricevere la notizia dell'incidente. In un gesto che ha commosso tutti, ha lasciato il set di un film a metà delle riprese, rinunciando a un'importante occasione professionale per recarsi subito presso l'ospedale dove Livia Giampalmo era stata ricoverata, non solo per supportarla emotivamente, ma anche per seguirne ogni fase del processo di recupero e per essere al suo fianco durante le prime difficili settimane di riabilitazione. Giannini ha sempre avuto un legame speciale con Livia, che è andato oltre la mera collaborazione professionale. I due si sono incontrati per la prima volta sul set di un film molti anni fa e da allora hanno costruito una solida amicizia. Giannini ha sempre apprezzato non solo il talento dell'attrice, ma anche la sua forza interiore, quella stessa forza che, ora più che mai, si rivela fondamentale per il suo processo di recupero. Il supporto della famiglia e degli amici. Accanto a Giancarlo Giannini non sono mancati i messaggi di affetto e di sostegno da parte di altri amici e colleghi di Livia Giampalmo. Tra questi molti attori e professionisti del settore si sono fatti sentire, esprimendo la loro vicinanza alla famiglia dell'attrice e alla comunità che le è sempre stata vicina. La solidarietà è arrivata anche da parte di altri volti noti del cinema e della televisione, che si sono uniti in una rete di supporto inviando messaggi di incoraggiamento. Livia Giampalmo è da sempre una persona riservata, lontana dalle luci della ribalta quando si tratta della sua vita privata, ma anche di grande generosità verso gli altri. È conosciuta per il suo impegno in varie cause sociali e per il suo amore per la natura, che ha sempre cercato di trasmettere anche attraverso il suo lavoro. La sua famiglia, stretta attorno a lei, ha vissuto con angoscia le ore più difficili, ma ha saputo anche infondere speranza, mantenendo un atteggiamento positivo e determinato. Non sono mancati momenti di grande emozione anche durante i primi periodi di ricovero, quando Livia ha potuto ricevere visite dalla sua famiglia e da alcuni dei suoi più cari amici. Nonostante le gravi condizioni fisiche, la sua forza d'animo e la sua volontà di non arrendersi hanno colpito profondamente chi l'ha cosci conosciuta, suscitando ammirazione in tutti coloro che sono entrati in contatto con lei in quei momenti. Il processo di recupero. Le difficoltà e le speranze. Il processo di recupero per Livia Giampalmo è stato lungo e complesso. Le fratture alle gambe, che inizialmente avevano messo in dubbio la possibilità di una piena guarigione, sono state trattate con interventi chirurgici delicati. A questi si è aggiunta una riabilitazione dolorosa, ma necessaria per recuperare la mobilità, soprattutto nelle zone più compromesse della colonna vertebrale. La sua condizione è stata monitorata costantemente dai medici, che hanno sottolineato la necessità di pazienza e di un costante impegno da parte dell'attrice nel seguire il piano terapeutico. Ma nonostante le difficoltà, il sostegno emotivo che ha ricevuto ha avuto un ruolo fondamentale nella sua ripresa. Livia ha sempre parlato con grande affetto del legame con la sua famiglia, che è stata il suo pilastro durante tutto il periodo della convalescenza. La presenza di Giancarlo Giannini è stata altrettanto fondamentale, non solo per il supporto pratico, ma anche per quello psicologico. La vicinanza di un amico che la conosceva così bene è stata per lei una fonte di grande forza. Ogni piccolo passo verso il recupero è stato celebrato come una vittoria. Livia ha iniziato a camminare di nuovo, prima con il supporto di un deambulatore, poi in modo autonomo. La sua determinazione e il suo spirito indomito sono emersi con chiarezza, tanto che i medici stessi hanno espresso stupore per la rapidità con cui ha risposto al trattamento, nonostante la gravità iniziale dell'incidente. Conclusioni. Un percorso di speranza e di rinascita. L'incidente che ha colpito Olivia Giampalmo è stato un duro colpo per la sua carriera e per la sua vita personale. Ma la sua risposta a questa difficoltà è stata quella di chissà che la lotta non è mai inutile. Grazie all'aiuto dei suoi cari e la solidarietà dei suoi amici, in particolare di Giancarlo Giannini, Livia ha intrapreso un percorso di recupero che la sta portando a risollevarsi, giorno dopo giorno, con un rinnovato spirito di speranza. Non solo un'attrice di talento, ma anche una donna che ha dimostrato di avere una forza straordinaria, capace di affrontare la vita con il coraggio che solo le vere battaglie sanno dare. E così, mentre le riprese del film che Giannini aveva lasciato sono andate avanti senza di lui, il pensiero di tutti è rivolto a Livia, con la speranza che possa tornare presto a brillare come solo lei sa fare.